Musica Bentrovati nuovamente nella mia cucina Ma se è la prima volta che passate di qui Ciao, io sono Diana e questa è la mia cucina d'essenza E oggi prepareremo insieme la colomba senza glutine e senza lattosio Preparata con farine naturalmente previ di glutine Bene, direi di iniziare subito con la videoricetta E noi ci rivediamo in coda al video Scaldiamo del latte, mi raccomando non portatelo a bollore Aggiungiamo il lievito disidratato Possiamo utilizzare anche il lievito di birra fresco Poi uniamo due cucchiaini di zucchero che ci aiuteranno ad attivare il nostro lievito Aggiungiamo al nostro lievitino parte dell'amido di mais previsto per la ricetta Il restante amido di mais mettiamolo da parte perché lo impiegheremo per la ricetta Sciogliamo per bene il lievito e lasciamolo attivare per circa 30 minuti In una bowl andiamo a versare le nostre farine Uniamo il restante amido di mais, poi la farina di riso finissima e l'amido di tapioca Aggiungiamo lo zucchero Infine la farina di mandorle Mixiamo per bene le polveri e mettiamole da parte In un'altra terrina andremo a rompere due uova e montiamole con le fruste elettriche Fino a quando non risulteranno belle chiare e spumose A questo punto versiamo le nostre uova all'interno della bowl con le nostre farine Poi aggiungiamo il lievitino e uniamo dell'olio di semi di girasole Cominciamo a mescolare ed evitiamo la formazione di grumi Infine aggiungiamo l'oxantano Tutto il processo è possibile effettuarlo direttamente in planetaria Ma se ne siete sprovvisti potete tranquillamente utilizzare le fruste elettriche Vi basterà sostituire i ganci Lavorate l'impasto per almeno 10 minuti Sia che questo passaggio venga effettuato in planetaria Sia che lo effettuate con le fruste elettriche Questo aiuterà l'impasto ad inglobare sempre di più aria Con l'aiuto di una spatola andiamo a lisciare la superficie del nostro impasto Copriamo con pellicola alimentare e lasciamo lievitare per almeno 40 minuti Trascorso il tempo andiamo a riprendere il nostro impasto Che sarà ben lievitato In questa successiva fase andremo a unire tutti gli aromi Sentitevi liberi di giocare con gli aromi che più vi piacciono per questa colomba Io sono andata un po' sul classico A me piace tanto l'aroma degli agrumi Utilizzato dell'estratto di vaniglia Delle scorze di arancia candita E dell'uvetta sottanina Precedentemente ammollata in succo d'arancia e rum Quando andiamo a unirla al nostro impasto ricordatevi di strizzarla molto bene Io poi ho aggiunto una pasta aromatica all'arancia Ma se proprio i canditi uvetta non vi piacciono Potete raggiungere delle gocce di cioccolato fondente all'impasto Una volta uniti gli aromi andremo nuovamente a lavorare il nostro impasto con le fruste elettriche Sempre con il gancio per impastare Lasciamo poi bene la superficie del nostro impasto Se vedrete che è troppo colloso Aggiungete qualche goccia di olio di semi di girasole per aiutarvi Poiché il nostro impasto è molto morbido e tende ad appiccicarsi alle mani Cerchiamo di effettuare una pierlatura proprio all'interno della bowl A questo punto andiamo a dividere in due l'impasto E andiamo a versarlo nel nostro stampo per colombe Io ho utilizzato uno stampo da 500 grammi perché avevo quelli in casa Volendo è possibile utilizzare tranquillamente uno stampo anche da 750 grammi Nel frattempo portiamo a bollore dell'acqua in una pentola E adagiamola all'interno del nostro forno spento Lasciamo per bene la superficie della nostra colomba E copriamo con pellicola alimentare Mettendo poi la nostra colomba in forno a lievitare per un'ora e mezza Trascorso il tempo di riposo la nostra colomba sarà veramente ben lievitata Accendiamo e preriscaldiamo il nostro forno in modalità statica a 180 gradi Ed inforniamo la nostra colomba nel ripiano più basso del forno per 45 minuti Trascorsi i 45 minuti spegniamo il forno E apriamo leggermente lo sportello Mettendo magari un cucchiaio di legno per far uscire il vapore Dopodiché tiriamo fuori la colomba dal forno Spendelliamo la superficie con due cucchiai di latte e una parte di olio Questo aiuterà tantissimo a rendere ancora più soffice la superficie della nostra colomba Copriamo con pellicola e lasciamola così per 10 minuti circa A questo punto la nostra colomba risulterà molto soffice ma ancora tanto calda Quindi vi consiglio di lasciarla raffreddare lentamente prima di passare alla glassatura Ed essendo io una grandissima amante dell'arancia e anche molto golosa Ho deciso di spegnellare la superficie con una marmellata fatta in casa di mandarino e arance Poi ho fatto sciogliere a bagnomaria circa 150 grammi di cioccolato fondente E ho ricoperto tutta la superficie della mia colomba E mentre il cioccolato era ancora fuso e caldo Come ultimo tocco ho aggiunto delle mandorle e degli zuccherini Lasciate che il cioccolato si rapprenda e dopodiché gustatevi la vostra colomba La colomba di Pasqua fatta in casa è una vera soddisfazione Perché quando arriva la Pasqua e le colombe invadono negozi e supermercati La maggior parte delle volte noi poveri intolleranti restiamo con l'amare in bocca Per cui vi assicuro che questa ricetta per preparare la colomba in casa con farina naturalmente senza glutine Regalerà tantissima soddisfazione La colomba preparata con farina naturalmente prive di glutine La colomba si manterrà morbida e soffice per 2-3 giorni Io l'ho conservata all'interno di un sacchetto per alimenti con chiusura ermetica E poi riposta all'interno di una scatola di latta Se non volete ricoprirla con il cioccolato fondente potete anche semplicemente spolverarla di zucchero a velo Sarà comunque deliziosa Io credo che non avanzerà nemmeno una fetta Ma se dovesse accadere potete sempre utilizzare la colomba per dei dolci di recupero Bene il video finisce qui Spero tantissimo che questa mia ricetta vi sia piaciuta E che proverete a preparare la colomba fatta in casa con le farine naturalmente prive di glutine Se la ricetta vi è piaciuta vi invito a lasciare un like e iscrivervi al mio canale E attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi appuntamenti Inoltre fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete provato a fare questa ricetta o se la proverete Io ne approfitto e vi auguro a tutti buona Pasqua e noi ci rivediamo qui molto presto con la prossima video ricetta